Salve a tutti amici in questo video vediamo come completare la missione rinfrancare lo spirito su Diablo 4 Potreste avere una difficoltà perché come potete vedere siamo qua nel cerchio blu quindi l'area della missione è giusta ma non c'è niente da fare qua con il cursore Questo perché dobbiamo aprire la ruota nel mio caso da pc tenendo premuto E e con la rotella del mouse posso passare nelle varie sezioni Se siete da playstation lo fate dal controller con il su se non sbaglio Dobbiamo semplicemente fare questo evviva Ed ecco fatto che adesso abbiamo finito Dobbiamo semplicemente ora andare a parlare con la guardia in modo da andare a completare la missione Ho incoraggiato le recrute perfetto finito E ci siamo questa era rinfrancare lo spirito su Diablo 4 Spero di essere stato utile ci vediamo al prossimo video Spero di essere stato utile